Ciao a tutti ragazzi, con questo video annunciamo il primo contest del server di Lost in a Cubic World. Questo contest è dovuto al fatto che sarà presto implementato sul server un plugin riguardante le divinità. Le principali divinità del server saranno 4 inizialmente, per le quali bisognerà creare quindi dei templi, delle chiese o delle cattedrali o anche dei santuari sulla base delle preferenze dei player. Queste strutture infatti dovranno rispecchiare le caratteristiche delle divinità, che sono le seguenti. Thor, dio dei fulmini e della guerra. Hermes, dio dei mercanti e messaggero degli dei. Lilith, demone della morte. Flora, dea della natura. Ogni divinità darà ai suoi seguaci dei benefici in game, che consistono nel droppargli degli oggetti relativi alle sue caratteristiche. Quanti più adepti avrà una divinità, tanto più rari o potenti saranno gli oggetti da lei droppati, in maniera del tutto casuale. Chi può partecipare al contest? Possono parteciparvi solo le città, con una sola costruzione a testa, che sarà dedicata ad una sola divinità, quella che decideranno di venerare. Per decidere quale divinità più vi aggrada, potrete trovare su questo link alcune informazioni, ossia, ad esempio, quali sono i benefici che dà la divinità in base alle classi di adepti. All'interno delle chiese, inoltre, appena il plugin sarà completato, verranno disposti degli artari dagli admin relativi alla divinità scelta dalla città. Il contest verrà chiuso il 14 luglio alle ore 15, data nella quale gli admin dichiareranno il vincitore. Chi costruirà la chiesa più spettacolare e che allo stesso tempo rispecchia al meglio la divinità scelta, sarà uno dei vincitori. Difatti, ci saranno tre città vincitrici, che riceveranno premi in lire, la moneta del server. Al primo classificato andranno 2000 lire, al secondo 1000 lire e al terzo 500 lire. Bene ragazzi, con questo è tutto, vi auguro in bocca al lupo e se avete dubbi di qualunque tipo, scriveteci sul forum al sito www.lossinacubicworld.it oppure lasciate un commento sotto il video, cercheremo di rispondervi il prima possibile. Vi aspettiamo sul server di Parliamo di Videogiochi e Jimba Network all'indirizzo ip minecraft.jimba.net Ciao!